Ciao ragazzi, come va? Spero bene. Oggi, come avete letto dal titolo, oggi giocheremo sia a YouTube sia a Deadball 2. Quindi iniziamo. Grazie. Tra un giorno e 14 ore. Che cacchio? Io mentre mi sblocco questo pacchetto su prima. Ok. Ho cantato questa canzone. Grazie a tutti. E' una banana. We're in the peace of the power. We're in the peace of the power. We're in the peace of the power. 2.000. Grazie. Ora ne ho 29. 29. Grazie, nooo. Che sei, guarda? Salvati! Mi servono demons, dico demons di quelle demons. Ok, oggi avviazzi ci uniremo in una squadra. Vediamo. Mi metto da questo, ok. Oh, scena. Puoi unire. Sì, ok. Dato che è italiano, grazie. Unisciti. Ciao, amico. Amico. Sono. Ita. No è in inglese. In inglese. In inglese. In inglese. Grazie. Voglio sfidarlo. Voglio sfidarlo. Voglio sfidarlo. Voglio sfidarlo. Ma vuole sfidarmi questo? Voglio sfidarlo. Voglio sfidarlo. Voglio sfidarlo. Voglio sfidarlo. Voglio sfidarlo. Quattrocento. Ehi. Ehi. Mi sta raggiando. Ehi. Mi sta raggiando. Non proprio però. Un croino. Un croino. Un croino. Un croino. Un croino. Io sono la gang. Un croino. Un croino. Un croino. Un croino. no dai hai una sfida incredibile che non ho mai visto dai grazie no dai questo è un hacker come ho detto un hacker è un hacker no che faccio no 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 non n Daci i provi. Oh la madonna. Questo mi sa... Ma quello è mio. Non appartiene a te. Come ho detto non appartiene. Te appartiene a mio questo roteo. Questo vuole fare questo roteo. No. 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 Beh... No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Raga, ci riprovo, ci riprovo. Oh raga, questa è l'ultima, se no vinco questa, c'è due dislike. Raga, non so niente, va bene, è una cosa strana. Raga, e poi YouTube, come avete detto, cioè come avete detto dal titolo. Raga, non so niente, va bene, è una cosa strana. Ma questo è un nabbo perché, cioè, ma tu li usi i poteri, tu li usi. E' tutta fortuna, si, tu non li usi i poteri, tu non li usi i poteri, tu sei un nabbo, ma buono. E' un nabbo, non so nabbo. E' un nabbo. Questo è un nabbo, questo. Se no, non so perché, ma la cosa è che è un nabbo. Cioè, che ha tipo le ali, tipo come me. Cioè, la nota che ha la semiglianza. Come ho detto, sono forte a questo gioco. Però non so perché, però non so perché, però lascio non prenderla. Se arrivo a dieci, un like, però ho due dislike. Dai! Sì! Oh, ragazzi, ma anzi no, due like e due dislike. E mi spiace ragazzi. Ehm... No, non voglio niente. E siamo a... 30... Come si chiama soldi? 30.000 soldi. Vediamo. Commenti? Se lo commenti, ma sei sicuro, Manuel? Hai dei commenti? Ah! Comunque, l'anito del video, avete visto la mia intro. Hihi! Infatti, infatti, quando farò tutte, dico tutte, farò, cioè, tutte le intro, cioè, tutte le mie intro. Cioè, ho zero, ne ho solo una. Intro. No, non risponde nessuno. No, non risponde nessuno. No, che me ne frega. Bunker, segreti. Ragazzi, io mi porterei questo video. Lo conoscete? SP... SP... Giochi. Se lo conoscete, ditemelo nei commenti. Io mi voglio guardare questo video che è di... No, non... Vabbè, anzi, no, ora non lo voglio vedere. No, io... Ce l'ho messo... Cioè, prima YouTube, perché... L'ho messo... Perché... Cioè, l'avevo messo... Cioè, nel titolo l'avevo messo perché... Volevo guardare, tipo, se c'erano, tipo, dei commenti sul mio video, avete capito. Vabbè, la live finisce qui, anche se ho registrato 15 minuti, ma non fa niente, ragà. No, perché... No, perché... Cioè, mi sto annoiando, quindi non c'ho niente giochi da fare. Cioè, vabbè, vabbè, ci vediamo, tipo, nei prossimi video, ciao. Ah, ragazzi, vi voglio informare che... Nel prossimo video, vi imparerò come fare, tipo, una intro, avete capito? Cioè, come... Come ho fatto vi... Come ho fatto io, avete capito? Cioè, il video originale... Ve lo faccio vedere, cioè, domani, avete capito qui, quindi siete state pronti per imparare la nuova intro. Cioè, l'ho imparato da un ragazzino, però vabbè, ci vediamo.